in pista Thomas Crucianelli ci presenta Fiero di me stesso a seguire solo femminile junior dodici quindici anni classe B Caribbean show si tengano pronte le atlete con i numeri cinquantacinque cento due cento otto sessantacinque grazie base per non sbagliare una mattina sono rimasto a letto non ero sveglio ma neppure addormentato ho semplicemente lasciato che il mondo mi corresse addosso e così sono rimasto per un po' di tempo qua un giorno ho aperto gli occhi era passato un secondo o forse qualche anno e mi son trovato a un metro da uno strapiombo davanti a me mare immenso di cui non vedevo il fondo ho sorriso mi son detto addio e ha saltato ed è così che sono rinato all'inizio ti sembra di affogare piangi ma è come se nessuno ti possa sentire cerchi un appiglio qualcosa cui poterti aggrappare e lo trovi i sogni che devi ancora fare sono lì sopra da qualche parte che ti stanno ad aspettare per non sbagliare ho sbagliato spesso ma solo così sono diventato fiaro di me stesso e lo trovi i sogni che ci stanno Grazie!